Da noi era possibile celebrare i funerali in forma ridotta e con la presenza di un certo numero di parenti nel piazzale del cimitero, così abbiamo fatto a Bitonto in questi due mesi. I funerali continueranno ad essere celebrati proprio nel piazzale del cimitero, che si riaprirà il prossimo 4 maggio come regolamentato nell'ultimo DPCM del Governo. Sarà così per il momento e non sarà certo diverso per i matrimoni e per le comunioni dei più piccoli, che dovranno attendere il loro incontro con Gesù. I matrimoni chiaramente si cercherà di venire incontro alle esigenze, alle sensibilità delle coppie di sposi. Tecnicamente è possibile celebrare il matrimonio in una forma molto ridotta, intendo dire come presenza, perché il rito si potrà celebrare per intero, già da ora è così, con la presenza dei soli sposi e dei testimoni, del celebrante e di un minimo di animatori per la liturgia. Chiaramente molti sposi stanno valutando di rinviare e su questo chiaramente si andrà incontro, ripeto, alle sensibilità e alle necessità. Ci auguriamo poi che con la lenta e graduale ripresa si possa avvicinarci il più possibile alla normalità. Circa le prime comunioni per provare a vivere tutto in maggiore serenità, già la Curia ha indicato a tutte le parrocchie della Diocesi di rinviare tutti i turni previsti per la primavera, insomma, in corso e spostarli all'autunno prossimo, fra ottobre e novembre. La Chiesa però non ha lasciato soli né i ragazzi né tantomeno le famiglie e gli anziani, con messe celebrate e trasmesse in diretta Facebook, ma non solo. La vera novità è stato più il discorso di offrire anche spazi di formazione, di annuncio, di incontro fra i ragazzi. Ognuno di noi sta cercando di inventarsi le metodologie più opportune per venire incontro anche a quelle che sono le tendenze dei giovani, social preferiti dai più giovani. Però direi che anche, ecco, ho visto con piacere che diversi anziani hanno approfittato di questo tempo per aggiornarsi, di questa occasione purtroppo non positiva, però hanno fatto di necessità virtù aggiornandosi, iscrivendosi a Facebook, documentandosi e imparando ad usare questo. C'è stato un imparare reciproco in questo e ho visto che c'è stata una buona possibilità di sentirsi comunità a distanza, ma credo anche di riscoprirsi chiesa domestica all'interno delle mura della propria casa. Quindi certamente la gente ha potuto cogliere anche il bello di pregare insieme. Grazie.